Eh, ho capito, eh, Murigno, Murigno alla Roma, ho capito, volete sapere lui che cosa ne pensa? Eh, vabbè, un attimo però, perché se non faccio prima il caffè, lui non si alza, i pensieri non si sviluppano e quindi non ci riusciamo tutto a strutturare, cominciamo! E' un martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori! Eh sì, amici bellini, quelli bravi già hanno fatto uscire video, post su Instagram, cose varie, ma io sto ancora pigliando un caffè, sono ancora con il pigiama al contrario, perché una volta lo metto dritto e poi il giorno dopo me lo ritrovo al contrario. Il martedì funziona così. Ma dobbiamo riflettere su questa cosa, perché la prima, la prima, un Murigno alla Roma, mamma mia, no? La prima reazione è quella. Ma non avevano già firmato con Sarri, 95%, 75%, 85%. Allora le reazioni del tifoso del Napoli vanno direttamente là. E dobbiamo, sicuramente adesso riuscirà la cosa di nuovo se si riavvicinano i rapporti tra DL e Sarri. Però la riflessione deve essere questa. Che sia vero, che sia non vero, perché oramai abbiamo capito, le dicono tutte finché non le indovinano. E poi le notizie vere in realtà escono ed escono direttamente ufficiali, se vogliamo dirla tutta. Io voglio capire una cosa. Non dobbiamo essere però la seconda scelta, la terza scelta di nessuno. Noi dovremmo avere la nostra idea ben precisa, portarla avanti, scegliere e andare avanti. No che tu vuoi prendere Emery e Emery ti dice di no, poi dici vabbè, Mihajlovic, Mihajlovic non è convinto, e poi vai su Sarri. Cercate di capire quello che voglio dire, perché ti è andata bene. Ma non è detto che quella è stata un'intuizione. Cioè, voglio essere ben chiaro, perché il Napoli finirà tra il secondo e il quinto-sesto posto, ok? Probabilmente migliorando solo di una posizione rispetto all'anno scorso dove siamo finiti i settimi, perché avevamo vinto la Coppa Italia e quindi abbiamo smesso di giocare a pallone. Ricordiamocene tutte le cose, perché non c'era più bisogno, ok? L'unica squadra che ci teniamo veramente dietro, su cui miglioriamo, è la Roma, che ha fatto un campionato dove andate avanti in Europa, tutto a posto, fino allo squagliamento, perché si sono completamente squagliati con gli infortuni e tutte le cose. Hanno preso 50 gol dal Manchester e sono morti. E hanno accusato anche il campionato, perché non vincono sconti diretti e stanno cominciando a perdere pure con le piccole. La Roma reagisce... Signing Mourinho, José, non José. José. Che cosa significa? Ci deve far riflettere su due cose. Probabilmente la società se lo può permettere, quindi una società che evidentemente ha soldi, sta messa bene, possono ripianare, possono... Se hanno debiti già hanno modo di ripianarli, eccetera, eccetera, perché Mourinho non viene per due lire. Ed evidentemente puntano a fare su serio l'anno prossimo. Quindi Napoli si deve stare molto attento. Perché se noi abbiamo già detto che quelle tre, quando sono tutte e tre in forma, è difficile lottare con loro per un posto Champions, Juve, Milan, Inter, stanno là. È rimasto un posto. Quel posto l'Atalanta dimostra sul campo di meritarlo. Senza fare spese folli, trova sempre 50 nuovi giovani da mettere dentro e alla fine funzionano. Con le pedine fondamentali, lo sappiamo Gasperin. Dopodiché ci sta la Lazio, ci sta il Napoli e ci sta la Roma. Ci sono quattro squadre per un posto. Dobbiamo darci una mossa. Dobbiamo scegliere che sia Spalletti, che sia Allegri, che sia Sarri, che sia De Zerbi o anche Italiano. In fretta, ragazzi miei. Perché si è capito che non si va avanti con Gattuso. Non dobbiamo aspettare niente. La qualificazione Champions o la non qualificazione Champions. Questo secondo me è il punto importante. Perché si deve programmare. Che cosa stiamo aspettando? La Roma lo fa, lo può fare pure il Napoli. E ma tu dici, ma tu stai ancora lottando, rovini l'ambiente? No, non rovini niente perché tanto già si sa nell'ambiente. Già è deciso tra di loro. Quindi non rovini niente. Comunque si fanno i nomi. Quindi che cosa cambia? Spero, più che altro, che il Napoli già l'abbia fatto. Che lo tenga bene nelle segrete stanze. Lo tenga ben segreto e venga fuori con l'annuncio appena tutto è finito. Per un fatto di sponsorizzazioni, di grande presentazione con il leone, con la maschera del leone, con la tigre, con le fotografie così. E tutte quelle cose belline che di solito facciamo noi. Poi su Murigno io non ho un'idea precisa. Ma ho guardato il documentario su Netflix, scusatemi, su quell'altra piattaforma, non si può neericere chi è piattaforma. Insomma, è un allenatore interessante, è una figura affascinante. È uno di quelli che ti cambiano, che sono interessanti da ascoltare, che ha vinto, che ha esperienza, eccetera, eccetera. C'è da dire che Al Tottenham ha fallito. Si può dire che ha fallito perché non ha portato trofei ed era un Tottenham che veniva però dal ciclo finito di Pocettino. Insomma, non era una facile task. E poi si sono trovati anche loro nel bel mezzo della pandemia, quando si stavano riprendendo. E poi l'hanno fatto fuori al momento di un'altra finale dove avrebbe potuto poi alzare un trofeo. E sono contento che hanno perso, perché il Tottenham è anche lei una Super League potenza. Lui va da una squadra che lotta per entrare tra le prime 6-7 dell'Inghilterra a una squadra che in Italia lotta per entrare nelle prime 6-7. Ma, mi piace sottolineare, non era parte della roba della Super League e quando si è trattato poi di firmare un documento contro quelle tre italiane, così la Roma era in prima linea. Almeno così ci hanno fatto sapere. Rispetto invece a un Napoli che è stato zitto. Allora, sotto questo punto di vista, in un calcio dove i tifosi del Manchester United contestano la squadra in maniera pesante, anche dopo che, insomma, loro vincono 6-2 in Europa, perché non ha importanza, perché ai tifosi inglesi, quando gli hai tolto lo stadio e quando cerchi di togliergli l'idea del calcio, non va bene. E va al di là del risultato. E quello è il modo di tifare. Loro ci hanno, gli inglesi ci hanno fatto vedere il peggior modo di tifare, che poi non erano tifosi quelli, erano delinquenti, quelli degli hooligan, è il miglior modo di tifare. E si meritano il campionato che hanno, quello più bello, quello meglio venduto, non a caso, non è a caso. Però Murigno fa un passo verso l'Italia, un passo indietro, se vogliamo, verso l'Italia e sarà interessante vederlo. A me avrebbe divertito anche, insomma, Sarri alla Roma. Mi faceva ridere e poteva essere, secondo me, un ambiente interessante per lui. Fuocoso, comunque caldo, figuriamoci. Voglio proprio capire, voglio proprio vedere se si fa questa cosa, perché si parlava di Sarri al Tottenham e quindi avviene proprio questa cosa così. Sarri in Inghilterra, secondo me, è più che una probabilità. Ma lo vogliono o non lo vogliono questo Sarri? Alla fine della fiera. Ma Allegri lo vogliono o non lo vogliono? Questi allenatori che sono in orbita, no? Questi allenatori ex Juventus che sono in orbita, anche Napoli adesso, e tutti li vogliono e nessuno se li prende. È una bella considerazione da fare. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, perché si continuerà a parlare di Spalletti, ma il nome di Sarri tornerà insieme a quello di Allegri, probabilmente, etc., etc. Ma io ho ancora sonno, quindi non ci capisco niente. Iscrivetevi al canale, lasciate un messaggio. Salutate. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. E arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanetta, poi vi iscrivetevi al canale Telegram, poi dovete praticamente fare... E di più, dai, basta, basta, sei cringe. Quante cose. Tutte le cose bellissime. Mi fai caffè. Io poi non mi ricordo, poi mi chiamo. No, 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 no. Grazie.